Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come detto dal titolo ci sono delle novità per quanto riguarda il prossimo dlc di gta online eravamo rimasti a michael che ritornerà appunto nel dlc ragazzi e siamo quasi insomma verso l'ufficialità di quanto detto in precedenza come al solito prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdervi tutti quanti i contenuti su gta online e gta 6 guide informazioni video news e tutto quanto ragazzi mi raccomando lasciate anche mi piace al video per aiutare youtube ragazzi mi raccomando iscrivetevi visto che molti di voi guardano i video senza essere iscritti quindi a questo punto iscrivetevi direttamente quindi come ben sapete a dicembre è uscito il dlc the contract parte 1 a questo punto possiamo dire in cui abbiamo visto l'agenzia franklin e insomma tutte quante le missioni con dr dre bene secondo test fans 2 quell'ilc era in lavorazione da più di un anno quindi per fare un dlc the contract rockstar ci ha messo un anno se ci pensate abbiamo visto per la prima volta dr dre a caio perico quindi un anno prima e poi abbiamo visto un dlc dedicato a lui un anno dopo quindi possiamo capire insomma che la collaborazione con dr dre è iniziata un anno prima con franklin ovviamente non ci sono stati problemi perché è già insomma tra virgolette della famiglia rockstar per quanto riguarda il prossimo insomma ritorno su gt online rockstar come dice test fans 2 che vabbè per chi non lo conoscesse è un leaker famosissimo insider insomma non sbaglia mai perché comunque dice cose vere ha detto che rockstar ci ha dato un bell'indizio appunto già nel dlc the contract e questi indizi adesso ve li farò vedere ve l'avevo già fatti vedere in precedenza ma questo qui è semplicemente per rinfrescarvi la memoria in questa clip si sente appunto franklin mentre guidiamo il go kart diciamo il kart per il golf insomma questo kart qui all'interno degli studios dove appunto nella storia abbiamo visto che ci lavora michael effettivamente perché dopo essersi ritirato è diventato un produttore di film e si sente proprio franklin che dice ah speriamo che quel mio amico non è al lavoro oggi questo conferma che appunto michael è ancora vivo e quindi questo qui è un easter egg tra virgolette del dlc che hanno notato tutti quanti subito mi sembra anche ovvio e ovviamente si sta riferendo a michael e questo era un easter egg poi ragazzi poco tempo dopo verso aprile più o meno ned luke che sarebbe l'attore di michael de santa ha pubblicato questa clip su appunto twitter quando la vidi per la prima volta pensai subito a un easter egg riguardo gta 5 perché è vestito con appunto i colori del clacking bell con il completo del clacking bell e quindi per me visto che lui fa film potrebbe essere appunto un riferimento a un qualche suo film che sta producendo infatti se sentite alla fine dice non è proprio questa la vita dopo il ritiro che mi aspettavo e tutto questo ve l'ho già fatto vedere come vedete è roba vecchia di un anno e questo conferma quanto detto da tez in precedenza poi cos'altro potrebbe arrivare in questo dlc the contract sicuramente utilizzeremo sempre l'agenzia e sempre gli studios di drd perché comunque hanno aggiunto un sacco di roba nel contract che non è stata utilizzata se ci pensate ci sono delle stanze nello studio di drd che non sono utilizzabili ci hanno la porta funzionante però la stanza è praticamente nera ve l'avevo già fatto vedere in un video in più vi ricordo che c'è sempre il riferimento a rosalia o rosalia insomma la cantante ultimamente sta anche spopolando su tiktok quindi buon per lei che tra l'altro anche una sua radio su gta online per chi non lo sapesse e quindi ci sono delle sue canzoni ovviamente e probabilmente sarà disponibile anche lei in questo dlc the contract quindi magari abbiamo visto nel primo contract franklin e drd in questo secondo michael e rosalia comunque potrebbe essere anche io spero arrivino più contratti perché effettivamente un solo contratto sarebbe una sola mega rapina è un po' poco onestamente è durato veramente poco quel dlc per essere uno di dicembre però comunque ben venga se ci pensate deve arrivare un dlc grosso perché comunque l'ultimo dlc grosso risale a un anno fa quello insomma contract tra virgolette e perché questo qua è stivo insomma non hanno aggiunto praticamente nulla sì qualche missione qualche contenuto riciclato qui e là per il resto nulla di nuovo infatti è durato due tre settimane neanche in più ragazzi altra cosa che vorrei aggiungere sono appunto le auto che devono ancora uscire del dlc the contract perché visto che ce l'abbiamo possono essere utilizzate come indicatore per un prossimo dlc quindi come avete visto rockstar la sta tirando per le lunghe deve uscire abbiamo visto che sono uscite insomma la kanjo sj e la postlude insieme come appunto da questa foto che si può vedere l'ordine di uscita la prossima è effettivamente l'audi che salvo nuovi rinvii da rockstar dovrebbe uscire questo giovedì che è appunto il 6 ottobre quindi l'ha tirata fino al 6 ottobre poi la settimana dopo quindi il 13 ottobre dovrebbe uscire la ubermacht reinhart e poi ragazzi il 20 ottobre dovremmo avere la bf weevil custom da bennys disponibile come veicolo settimanale poi il 20 ottobre avremo la obey 10f widebody che sarebbe l'audi r8 però versione di bennys e poi come ultimo veicolo il 27 la grotta ibrioso 300 widebody questo qua ragazzi praticamente porta ci porta direttamente a novembre perché l'aggiornamento settimanale successivo dovrebbe essere il 3 appunto novembre che è un giovedì non è detto che insomma escano direttamente uno dietro l'altro rockstar games potrebbe continuare a fare rinvii perché parliamoci chiaro alla gente non interessa più insomma dei veicoli più che altro cioè giusto quest'audi poi per il resto degli altri chi se ne frega a quanto ho visto insomma la community non è molto interessata però comunque siamo nel mese di novembre quando insomma finiranno i veicoli sicuramente aspettiamoci qualche annuncio di rockstar sempre che a ottobre non venga interrotto tutto per un eventuale annuncio di gta 6 io sono uno di quelli che ci crede ancora in più per quanto riguarda i contenuti in arrivo su pc visto che molti si stanno lamentando ovviamente giustamente anzi oserei dire visto che pc può essere considerato anzi è next gen vera e propria next gen insieme a ps5 xbox series x ed s arriverà anche l'aggiornamento di ao hanno inserito sti file di gioco di ao penso da sei mesi sette mesi rockstar non ha fatto uscire gli lc di ao che è esclusiva next gen su pc però tes ci conferma che entro dicembre dovrebbe arrivare comunque questo dlc di ao anche su pc in più come vedete da questo post che è vecchio ha correttamente confermato e detto che il completo da mummia sarebbe stato disponibile solamente per i membri di gta plus come vedete infatti questa settimana l'abbiamo visto poi per qualche motivo alcuni avevano parlato di un eventuale mercato azionario su gta online questo qui ve lo aggiungo come chicca ma rockstar games l'ha praticamente scartata dopo gli lc insomma the contract perché aveva paura di eventuali glitch per fare soldi infiniti quindi ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti quindi ci siamo arriverà insomma michael nel nuovo dlc aspettiamo insomma l'ufficialità di rockstar come al solito però se volete rimanere informati mi raccomando iscrivetevi al canale vi ringrazio veramente tanto per la visione e noi ci vediamo al prossimo video